Vuoi registrare la voce per il tuo podcast ma sfortunatamente vivi nel centro di un aeroporto, vivi nel centro di un'autostrada, in una delle città più incasinate del mondo? Non ti preoccupare, con questo video troverai la soluzione al tuo problema. Ciao, nel video di oggi ti parlerò di come utilizzare un plug-in, un noise suppressor, e nello specifico vedremo il Waves NS1, per migliorare la qualità audio delle tue tracce. Questo plug-in che cosa fa? Semplicemente lavora sulle formanti del rumore di fondo, del noise, proprio per eliminare tutte quelle frequenze dalla tua registrazione. Come scoprirai, ti faccio un piccolo spoiler, nessun plug-in, neanche questo, fa miracoli. Per cui, se la situazione è molto, molto, molto grave da risolvere, meglio trovare altre soluzioni che non sono altri plug-in, ma altre soluzioni che sono, ad esempio, quella di registrare in altri ambienti o di trattare acusticamente le pareti. Ma di questo ne parliamo dopo. Iniziamo! Ok, allora, quello che andremo a fare noi oggi è simulare una registrazione audio con un rumore di sottofondo, anche abbastanza fastidioso, per farti vedere come con un plug-in puoi risolvere parecchio la situazione. Ok? Allora, per farlo abbiamo bisogno di un microfono, di una scheda audio e, in questo caso, di un'app che si chiama My Noise. Ok? Dopo ti passo il link... è un'app gratuita, ti passo il link in descrizione, che simula, appunto, questa app simula rumore di fondo. Ok, quindi, adesso la prima operazione da fare è staccare il mio DBX286S. Quindi questa è la voce pulita che entra nel microfono, un Rode NT1, che va dentro una scheda audio SSL2 e viene registrata attraverso Reaper. Va bene? Perfetto. Allora, cosa facciamo? Armiamo la nostra traccia e premiamo Play sull'app. Ok, immagino tu riesca a sentire questo fastidiosissimo rumore. Ok? Premessa. Questo microfono è il Rode NT1. Se tu non lo conosci, è un... Aspetta, fermiamo l'app, sennò impazziamo, perché non so tu quanto lo senti forte, ma io lo sento anche in cuffia, quindi sto impazzendo. Allora, il Rode NT1A è un microfono cardioide. Cardioide che vuol dire? Vuol dire che prenderà tutti quei suoni che si trovano soprattutto nella parte anteriore, di meno laterale e niente dietro. Ok? Immagino una forma di cuore. Ok? Quindi io sono qui proprio nella punta del cuore, quindi la mia voce si sente bene. Di lato si sente meno, prova, guarda. Vedi come si sente meno la mia voce? Si sente molto, molto, molto meno rispetto a prima. Adesso si sente molto forte. Di lato si sente molto meno. Ora, non riesco ad andare dietro al microfono per fartelo vedere, ma ti assicuro che dietro si sente ancora, ancora meno. Ok? Questa è una premessa importante. Perché? Perché essendo un microfono cardioide, un microfono cardioide, scusami, io adesso, la maggior parte del suono che prenderà, della mia voce, quindi arriverà davanti. Ora, io posiziono l'app di lato proprio per simulare una situazione più o meno standard, perché a meno che tu non vivi nel centro di un'autostrada frequentatissima e registri lì mentre ti sfrecciano macchine a destra e a sinistra, probabilmente il rumore che ti arriva è un rumore laterale, probabilmente fuori dalla finestra, probabilmente i vicini, probabilmente, non lo so, hai il condizionatore acceso o il riscaldamento acceso, oppure le ventole del tuo computer vanno a fuoco. Insomma, ci possono essere miliardi di suoni che però non sono il suono principale, ovviamente, perché il suono principale è la tua voce. Ok? Quindi questa era la premessa, diciamo, metodologica per questo test. Ok, allora, premo di nuovo play e impazzisco con questo suono. Ok. Ci siamo? Benissimo. Allora, proviamo a registrare. Prova, prova. Questa è una registrazione della mia voce direttamente nel microfono Rode NT1 passando per una scheda audio SSL2 e registrando in Reaper. Sto aggiungendo del rumore di fondo in modo tale da rendere questa registrazione quanto più verosimile possibile in uno studio non acusticamente trattato. Sto un attimo in silenzio così sentiamo soltanto il rumore. Ok. Direi che ci siamo così evitiamo di impazzire tutti con questo suono e proviamo a vedere come risolvere questo problema. Ok. Oddio. Ce lo facevo più. Ok. Disarmiamo la traccia. Rimettiamo il mio DBX. Ok, perfetto. Allora, questa è la nostra bellissima traccia audio che proviamo a riascoltare. Prova, prova. Questa è una registrazione della mia voce direttamente nel microfono Rode NT1 passando per una scheda audio SSL2 e registrando in Reaper. Sto aggiungendo del rumore di fondo in modo tale da rendere questa registrazione quanto più verosimile possibile in uno studio Ok. Adesso arriviamo al punto importante. Non acusticamente trattato. Sto un attimo in silenzio così sentiamo soltanto il rumore. Ora, è importante che tu inutile dirlo ma è importante che tu ascolti questo video con delle cuffie. Ok. Proprio per sentire bene il rumore di fondo e bene la differenza che ci sarà quando applicherò tra un attimo il plug-in. Quindi metti un attimo pausa in questo video metti delle cuffie anche le cuffie del telefono se non hai delle cuffie decenti e prova ad ascoltare. Ok. Proviamo ad aggiungere quindi il plug-in. Il plug-in che andiamo a prendere è della Waves e si chiama NS1. Ok. È questo plug-in qua. Questo plug-in è veramente a prova di imbecille come si dice. Perché? Perché come vedi ha soltanto questo gigantesco fader. Non puoi fare altro. Quindi non puoi sbagliare non puoi fare nessuna cosa assurda. Puoi soltanto alzare o abbassare questo fader. Ed è tutto qui. Qui che avviene la magia. Perché questo NS1 della Waves cosa fa? È un noise suppressor. Cioè lui è tarato attraverso un suo algoritmo per eliminare tutte quelle frequenze che sono proprie del noise del rumore. Quindi in teoria in teoria non dovrebbe andare a toccare la voce ma dovrebbe eliminare solo le frequenze che hanno a che fare con il rumore. Ora, detto tra noi più rumore di fondo ci sarà più sarà difficile per questo plug-in ma per qualsiasi altro plug-in riuscire a darti una voce pulita. Quindi se il tuo caso è disperato quindi ancora peggio di quello che stiamo ascoltando adesso fermati non comprare questo plug-in non far nulla risolvi prima il problema dell'acustica nella stanza dove stai registrando quindi il mio consiglio è quello di comprare pannelli fonoassorbenti come quelli che vedi qui intorno a me provare a registrare magari in una stanza diversa rispetto a quella che stai utilizzando utilizzare la famosa tecnica dell'armadio quindi andare dentro l'armadio a registrare insomma risolvi prima il problema e poi dopo acquisti questo plug-in e provi a migliorare la qualità della voce perché se la situazione tua è peggiore rispetto a questa ripeto nessun plug-in fa miracoli ok proviamo a ascoltare adesso ho attivato il plug-in proviamo portiamoci su un livello di 40 ok proviamo ad ascoltare la traccia con il plug-in attivo prova prova questa è una registrazione della mia voce direttamente nel microfono Rode NT1 passando per una scheda audio SSL2 e registrando in arriviamo fino al punto dove c'è silenzio sto aggiungendo del rumore di fondo in modo tale da rendere questa registrazione quanto più verosimile possibile in uno studio non acusticamente trattato ecco sto un attimo in silenzio così sentiamo soltanto il rumore senti il rumore adesso ti faccio partire da qui togliendo il plug-in ok ti rendi conto ora te lo faccio risentire col plug-in attivo senza senza con senza ti rendi conto della differenza gigantesca ok ora fermo restando che nessuno fa miracoli proviamo a mettere a 50 fermo restando che nessuno fa miracoli questo plug-in ti aiuta veramente tantissimo proviamo a riascoltare ho aumentato a 50 prova prova questa è una registrazione della mia voce direttamente nel microfono Rode NT1 passando per una scheda audio SSL2 ok attivato e registrando in Reaper sto aggiungendo sto aggiungendo del rumore di fondo in modo tale da rendere questa registrazione quanto più proviamo a fare una cosa partiamo da qui e metto a anche 80 ma giusto per farti rendere conto di quanto va ad agire e quanto poco distrugge la tua voce certo più quantità di soppressione del rumore aggiungi più la tua voce ovviamente un minimo ne risentirà nonostante l'algoritmo la base di questo plugin dice che lui va a agire solo sulle formanti del rumore però ovviamente se lo metti a massimo probabilmente qualcosina della voce perde proviamo a riascoltare l'ho messo a 80 sto aggiungendo del rumore di fondo in modo tale da rendere questa registrazione quanto più verosimile possibile in uno studio non acusticamente trattato sto un attimo in silenzio così sentiamo soltanto il rumore ehi ma dove è il rumore senti ok spero di che ti sia stato utile questo la conoscenza di questo plugin e diciamo il suo utilizzo anche se è veramente semplicissimo perché tutto questo perché è fondamentale avere un suono di qualità oggi grazie ai microfoni le schede audio i software si riesce davvero ad ottenere un suono di qualità decente molto però fa l'ambiente nel quale registri quindi più l'ambiente è acusticamente trattato più la tua registrazione sarà migliore e il tuo microfonino economico la tua scheda audio economica suoneranno ancora meglio proprio perché se suonano dentro un ambiente acusticamente trattato tutto suona meglio quindi anche un microfono economico riesce a darti una qualità molto molto maggiore di contro un microfono molto buono in un ambiente non trattato o scarsamente trattato suonerà uno schifo facendoti rimpiangere tutti i soldi che hai buttato ok quindi spero che utilizzerai questo plugin tra l'altro ti metto nella descrizione ti metto il link e hai visto questo veramente facilissimo ce ne sono anche altri sono un po' più complessi questo qui è veramente facilissimo io ti consiglio ti do un ultimo consiglio prima di salutarti se è arrivato a un boh 70-80% di 70-80% di livello del fader non risolvi il problema cioè si senti ancora il rumore di fondo non insistere ti consiglio di rifare la registrazione perché vai a lavorare sulle frequenze che magari sono proprie della voce ok quindi questo è il mio consiglio bene spero che questo video sia stato utile per te e ti abbia fatto comprendere quanto sia fondamentale nel caso in cui ci sia un po' di problema di rumore di fondo quanto sia indispensabile utilizzare plugin tipo questo che nella maggior parte dei casi risolvono il problema come ti ho raccontato prima non fanno miracoli per cui se registri in un ambiente acusticamente non trattato ti conviene come primo step prima di fare qualsiasi altra cosa quello appunto di risolvere i problemi di acustica e magari provare a scegliere una stanza più silenziosa provare a registrare nell'armadio o comprare come nel mio caso pannelli fonoassorbenti che ti permettono di ridurre una serie di problematiche che possono esserci se dopo aver fatto questo hai qualche piccolo problema di rumore di fondo questo plugin il Waves NS1 può assolutamente risolvere il tuo problema benissimo io ti ringrazio per aver guardato questo video spero ti sia stato utile ci vediamo prossima settimana ma prima di salutarci come al solito ti chiedo di iscriverti al mio canale cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video per ora è tutto alla prossima ciao